Ciao a tutti. Il narcisista può sicuramente fingere di essere una persona guarita, specialmente se ritiene che questa maschera possa portargli benefici nella sua interazione con gli altri. Lui può utilizzare questa tattica per ricevere attenzioni, suscitare simpatia o ottenere il sostegno degli altri. Tuttavia è importante notare che l'approccio del narciso ha un percorso di guarigione è diverso da quello di una persona sana, veramente interessata a modificare il proprio comportamento. Mentre il narcisista potrebbe sembrare inizialmente coinvolto a diventare una persona migliore, ma spesso si tratta solo di un modo per manipolare e controllare gli altri. Di solito il narciso cercherà di ottenere l'approvazione e la validazione degli altri, mostrando una superficialità nella sua presunta guarigione. Ad esempio potrebbe inventare storie o esagerare i propri progressi pur di apparire in un modo positivo agli occhi delle altre persone. Inoltre il narcisista potrebbe mantenere alcune caratteristiche del suo disturbo, anche quando si finge una persona guarita, come ad esempio continuare a cercare costantemente l'ammirazione degli altri o a manipolarli per ottenere ciò che desidera. Infine è importante notare che il narciso raramente cerca veramente una guarigione e il suo desiderio di cambiamento è generalmente temporaneo e superficiale. Non dimentichiamo che per lui ammettere i propri difetti, i propri errori non è una cosa da poco. Quando il narcisista finge di essere guarito può comportarsi in modi che sembrano suggerire una reale trasformazione, ma è importante essere cauti e considerare attentamente tale contesto. Ora scopriremo alcuni aspetti chiave per capire al meglio questa situazione. Motivazioni Le motivazioni che si celano dietro la presunta guarigione del narciso possono variare. Potrebbe provare temporaneamente dei rimorsi dopo aver danneggiato le persone che lo circonda, desiderando quindi di essere accettato oppure semplicemente per evitare ulteriori conflitti. Tuttavia spesso queste motivazioni sono egoistiche e non derivano da una vera e propria volontà di cambiamento. Ciclo Idealizzare, svalutare, scartare Il narcisista può fingere di essere guarito per riprendere controllo sulle persone che ha precedentemente danneggiato, in seguito alla fase di scarto in cui svaluta e abbandona la sua preda. Può cercare un modo per riconquistarla utilizzando per l'appunto la sua ipotetica guarigione, come una tattica per riacquistare il controllo e ripetere il ciclo, idealizzare, svalutare e scartare in futuro. Mantenere l'immagine Il narciso può fingere di essere guarito per proteggere l'immagine che ha di se stesso. La paura di essere scoperto può spingere a cercare di ingannare gli altri, dimostrando di aver modificato il suo comportamento. Questo perché il narcisista è molto attento all'immagine che proietta verso gli altri, cercando costantemente di sembrare perfetto e senza difetti. Opportunità di manipolazione Un finto cambiamento può anche rappresentare un'opportunità per il narciso di raccogliere nuovi benefici o vantaggi emozionali. Può cercare di fare pace con coloro che ha danneggiato per poter sfruttare nuovamente queste relazioni, per un proprio tornaconto, ottenendo così attenzione, affetto o supporto. Una reale evoluzione per il narcisista è estremamente rara. Il modello di personalità narcisista è radicato profondamente nella personalità e comporta una mancanza di empatia. Un bisogno di superiorità è una tendenza a manipolare e sfruttare gli altri per raggiungere i propri obiettivi. Anche se il narciso sembra essere guarito all'inizio, è probabile che il suo vero sé tornerà alla luce, una volta che avrà ottenuto ciò che cercava. In sintesi, è essenziale tenere presente che il narcisista è abile nel manipolare il prossimo e può presentarsi come persona guarita da tali disturbo. È importante mantenere una certa distanza emotiva e prendere in considerazione tutte le prove e gli schemi comportamentali precedenti prima di accettare un'eventuale evoluzione di un soggetto con personalità narcisistica. Tuttavia capire se il narciso è realmente guarito può essere complesso, in quanto il narcisismo è una condizione molto complicata che richiede un lavoro di autoriflessione e di trasformazione profonda. Ad ogni modo, ci sono alcuni indicatori che possono suggerire che il narcisista sta facendo progressi nella guarigione, come ad esempio maggior consapevolezza di sé. Il narciso, in via di guarigione, sarà più consapevole dei suoi comportamenti passati e delle conseguenze che ha avuto sugli altri. Sarà in grado di riconoscere i propri difetti e le proprie mancanze. Empatia crescente. Un segno positivo di guarigione è l'aumento dell'empatia. Il narcisista della fase di guarigione avrà acquisito la capacità di comprendere e rispettare i sentimenti e le esperienze degli altri, senza cercare di dominarli o sminuirli. Miglioramento delle relazioni. Il narciso, durante il percorso di guarigione, lavorerà attivamente per migliorare le sue relazioni interpersonali, cercando di coltivare rapporti sani e rispettosi, basati sulla reciprocità e sulla considerazione delle altre persone. Autoriflessione e ricerca di aiuto. Il narcisista, che sta cercando veramente di guarire, sarà disposta ad impegnarsi in un lavoro di autoriflessione e di ricerca di aiuto professionale, come la terapia. Questo dimostra un impegno reale per il cambiamento. È importante notare che la guarigione del narcisismo richiede tempo e impegno continuo. Sebbene questi indicatori possano suggerire che il narciso stia facendo progressi nella guarigione, è sempre meglio lavorare con un professionista qualificato, per affrontare questa condizione al quanto intricata. La questione della guarigione completa da un disturbo narcisistico della personalità è ancora oggetto di dibattito tra gli esperti. Alcuni professionisti ritengono che i tratti narcisistici siano difficili da mutare completamente, poiché sono spesso consolidati modelli di pensiero e comportamento profondamente radicati. Tuttavia altri credono che con una terapia appropriata e un impegno significativo da parte della persona sia possibile ottenere notevoli miglioramenti. È importante comprendere che il narcisismo è spesso cristallizzato in profonde ferite emotive e psicologiche che possono richiedere tempo e un impegno costante per essere affrontate e perfettamente guarite. E a te è capitato di incontrare un narcisista che fingeva di essere guarito? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.